Colpo del Bologna che nel derby dell'Appennino a Franchi, Fiorentina battuta 1 a 0. Quarto risultato utile per il rosso-blu che salgono a 29 punti. Viola dopo il pane con la Lazio fermi a 24 punti. Parte bene il Bologna, Zileschi impegna Taraciano che si ripete su Poschi, Pogljotevic salva sulla linea, mano di Barak, rigore col VAR, Orsolini portavanti rosso-blu, quattordicesimo, pari di saponare sul tiro di Gonzales, 19, lo stesso saponare in rovesciata colpisce la traversa, Coroschi alza il colpo di testa su Gonzales, il portiere devia anche su Viotovic. Ripresa, Poschi di testa sul corner sorprende Taraciano. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella, notifiche e un commento. Ciao.